Vi ricordate il famoso romanzo di Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde per stare in tema di questa serata? Ebbene, questa sera la protagonista è stata l'Italia, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Un primo tempo imbarazzante e poi, questo lo vorrei dire soprattutto a quegli pseudomilanisti che attaccano Pioli, Pioli Out, Pioli Mediocre. Mancini che cos'è? Secondo tempo l'Italia l'altro lato, Mr. Hyde, si trasforma completamente. Un gol di Retegui che al suo esordio ed è anche interessante a fine partita che nell'intervista risponde proprio nello spagnolo argentino senza neanche sapere una parola di italiano e qui entriamo anche in un discorso che faccio da tempo con il discorso degli oriundi. Finché vai in una squadra di club va bene, però la nazionale italiana deve essere fatta di italiani e questo dimostra il fatto che abbiamo davvero in questo momento un problema grosso con giocatori italiani. È dovuto entrare Scamacca negli ultimi minuti per dare un po' di peso all'attacco, ma se andiamo a vedere gli undici è una squadra pressoché mediocre. La nazionale italiana in questo momento non ha niente a che vedere con i fasti di un tempo. Una nazionale che a me non mi fa né mu né ma, cioè nel senso non mi ha dato nessun tipo di emozione a parte, ripeto, un secondo tempo che ha rialzato testa e probabilmente poteva anche arrivare al pareggio, soprattutto dopo l'espulsione di Shaw all'ottantesimo, per quanto nel primo tempo, anzi nel secondo tempo scusate, c'è stata un'ammunizione di Walker che è un po' un giallo, anche perché sembrava che fosse stato ammonito in precedenza, quindi situazioni particolari. Una squadra inglese super fallosa, sono stati contati solo, a parte l'espulsione di Shaw, compresa poi la sua munizione, altre ben quattro munizioni. Una squadra davvero tosta, dura, cattiva per certi aspetti, mentre un'Italia troppo blanda, molle, senza idee, soprattutto il primo tempo. Ovviamente c'è tanto da fare perché vedere una nazionale del genere a parte è un dispiacere proprio da italiano, ma da un'altra parte è proprio una palla, cioè una palla al piede, ma nel vero senso della parola. Io non so questo inizio balbettante se possa anche influire con il resto del girone, sicuramente c'è tempo per recuperare, ma questo K.O. fa vedere anche la differenza tra una nazionale solida come quella inglese e una nazionale in via di costruzione come quella italiana. Ci portiamo a casa questo bel 2-1 dell'Inghilterra e soprattutto un monito anche al tifo di Napoli, tanto caloroso e stasera io sentivo solo gli inglesi, quindi tanto burdello per quando gioca il Napoli, però poi quando gioca la nazionale, sinceramente non ho visto la stessa passione, ma la lascio lì. Detto questo io vi saluto, vado a fare un salto e un saluto sul canale di DNA Rosso Nero TV e noi ci rivediamo domani mattina, come sempre, qui sul mio canale per narrare le nefandezze dei vari giornalacci più venduti. Buonanotte e ci vediamo alla prossima. Ciao!